Buongiorno bambini, eccoci qui per la nostra lettura del circolo dei lettori Piccoli lettori crescono. Questa volta ho scelto per voi Le avventure di Lester che è un classico della letteratura nordica ed è molto molto divertente. È un libro che possono leggere anche i bambini che stanno imparando a leggere da soli. Sono sei storie di due amici meravigliosi, il papero, Lester, e il suo amico Bob, l'orso. Ognuno di loro ha le sue caratteristiche. Leggiamo una storia. Questo è Lester. Questo è Lester. Lester è molto conosciuto, è quasi adorato dai suoi amici. Guardate i cuoricini. Un eroe per i bambini. Lester è proprio un tipo in gamba. E questo è Bob. Questo che saluta. Eccolo qui. Lui è l'amico di Lester. Lester in squadra. Lester è campione mondiale di bocce. Oggi con Bob si sono dati appuntamento al parco per fare un paio di partite. C'è un bel sole e le panchine sono verniciate di fresco. Bob ha portato l'ombrello. Il cielo è azzurro. Che cosa ti serve? chiede Lester. Sì, per ora, per ora è azzurro, risponde Bob. Il campo di bocce è occupato. Non ci faranno mai giocare con loro, dice Bob. Sono i coccodrilli. Guardate qui i coccodrilli che giocano a bocce. Eccoli lì. Scommetti che ci riesco, dice Lester. Quelli ti mangiano in un boccone, dice Bob. Bob, hai mai sentito la parola travestimento? Bob non è tanto sicuro. Lester gli spiega. Significa camuffarsi, Bob. Mascherarsi. Stammi a sentire. Quelli non sono mica tanto furbi. Sono un po' tonti, capisci? Un po' di verde mi scambieranno per un coccodrillo. Un coccodrillo che sa anche giocare bene a bocce. Quelli ti mangiano in un boccone, ribatte Bob. Lester sfodere il suo miglior sorriso. Con passo sicuro va verso i giocatori. Perché cos'è che fa? Guardate un po'. Prende la vernice verde e si traveste da coccodrillo. E così sfodere il suo passo sicuro. Va verso i giocatori. Ciao ragazzi, che ne dite di prendere in squadra un coccodrillo forestiero? E già che ci siamo potrei anche insegnarvi qualche trucchetto. Guardatelo lì. Come spavaldo. Bob si mette seduto. La cosa potrebbe durare un bel po'. Ma ecco che dal cielo cade una pioggia molto, molto forte. Piove tanto. Diluvia. Bob è entusiasta. Lui ne era sicuro. Ehi, Lester, avevo ragione io. Piove, piove. E apre il suo ombrello. Lo vedo, Bob. Lester, stai attento. La vernice verde con l'acqua se ne va. Grazie, Bob. Ora ti mangiano in un boccone. Stai zitto, Bob. Guardate un po' cosa succede. Con la pioggia la vernice se ne va davvero. Che Lester fosse un campione mondiale di Bobce. Bob lo sapeva. Ma che fosse anche un corridore velocissimo. Questo lo scopre solo adesso. Eccolo là in fondo. Che Lester scappa dai coccodrilli. E questa è la prima storia. E poi ci sono un sacco di altre storie molto divertenti di questi due amici che ne combinano di tutti i colori. Difatti il libro si chiama Le avventure di Lester e Bob. E io sono sicura che anche voi avete vissuto delle avventure con i vostri amici. Allora, perché non mettere in un libro? Ecco che cosa vi suggerisco di fare. Prendete un foglio. Come questo. Lo piegate a metà per il lungo. Così. Tagliate. Qua. E ottenete una striscia lunga. Così. Una volta ottenuta la striscia lunga così. La piegate. Prima a metà. E poi ancora a metà. E ottenete un mini libro. Che potete fissare. Con un cordino o un elastico. Io ho preso un elastico. Vedete. Lo mettiamo in mezzo. Facciamo un nodino qua. Ed ecco il nostro mini libro. Lo potete fare anche con due o tre fogli. Io l'ho fatto con uno solo. Per farvi vedere il modello base. Una volta. Fatto il nodo. Il librino è pronto. Si può sfogliare una pagina. Due pagine. E queste qui le vedete che sono attaccate insieme. Fate solo così. Le tagliate. Le tagliate. E la... Così. Ed ecco che il librino è fatto. Visto? Dentro a questo librino potete scrivere le vostre avventure con i vostri amici. E davanti fate un bel... O disegnare naturalmente. Davanti fate un bel disegno degli amici che avete scelto per le vostre storie. Questo è il lavoro che vi consiglio per questo mese. E poi ci rivediamo il mese prossimo. Ciao ciao!